Amici, oggi parliamo di un telefonino che sta per arrivare sul nostro mercato, brand UmiDigi, il signore UmiDigi che sforna un altro medio di gamma e si chiamerà UmiDigi Power. Power perché? Perché avrà una batteria enorme, 5.150 mAh con ricarica rapida 18 Watt. Quindi si ricarica veloce e durerà un casino. Brevemente vi descrivo il nuovo telefono, ovvero un corpo in alluminio con un frontale che ha un display da 6.3 pollici in full HD+, sarà un IPS, avrà Android 9 Pie nativo, avrà il supporto NFC, avrà dual SIM con espansione di memoria e tutte le bande disponibili, quindi anche la banda 20. Avrà una doppia fotocamera a semaforo sul posteriore, 16 più 5 megapixel, la frontale sarà una selfie cam da 16 megapixel. Si potrà sbloccare con l'oblò posto sul retro oppure con il vostro volto. Colgo l'occasione in questo video per accogliere i vostri commenti qua sotto sul processore. Ecco, magari cerchiamo di fare una class action contro Umidigi o a favore di Umidigi se vogliamo farlo crescere a livello di marketing pubblicitario. Perché? Perché il processore qua utilizzato su questo Umidigi Power sarà un Helio P35 4GB di RAM e 64GB di archiviazione. Ecco, sull'Helio io ho ancora un sacco di dubbi su questi processori Mediatek, tanto vale magari utilizzare uno Snapdragon sempre di fascia media ma anche medio-bassa, secondo me meglio rispetto magari a un Helio. Questo perché? Perché lo Snapdragon gira un pochino meglio, più fluido, tempi di risposta più rapidi e vabbè, quindi sarete voi a dirmi quello che ne pensate qua sotto. La cosa positiva qual è? È che questo è un telefono che fa praticamente tutto, non lo farà benissimo, però fa tutto al prezzo minimo sindacale. Perché? Perché costa 159€ già acquistabile su Aliexpress, quindi magari vi chiede di attendere qualche giorno in più se volete comprarlo, perché dovrebbe essere disponibile su Amazon dal 22 di aprile o comunque sia entro la fine del mese. Prezzo ancora non ufficiale per l'Italia, ma secondo me dovrebbe essere sui 159-169€ massimo, non di più. Un telefono che ricorda molto l'Umidigi F1, F1 Play, quindi magari non ci sarà l'effetto wow quando lo vedremo comparire fuori dalla scatola. Spero di poterlo provare presto e niente, fatemi sapere quello che ne pensate di questo ennesimo medio-gamma di Umidigi e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!